grazie grazie mille le gesta umane questo gesto mi piace mettere l'olio siamo qui in manifattura tabacchi il profumo mi colpisce ma anche l'anima delle mille le gesta umane appunto che fanno la somma di una città di un territorio e di questo posto che sarà arriverà ma con dietro tutto il bagaglio di quel che abbiamo fatto negli ultimi 5 mila anni intanto io comincio dall'olio